Innanzitutto grazie per l'ospitalità. Ciao Emilio, grazie a te che sei venuto oggi al Campus Yamaha. Il Campus Yamaha adesso però lo giriamo anche perché ricordiamo Yamaha, siamo all'esmo ed è la sede non solo di Yamaha Music e della parte Hi-Fi ma soprattutto è il quartier generale. Esatto, è l'unica sede europea che racchiude tutte le anime di Yamaha perché abbiamo non solo Yamaha Music ma abbiamo Yamaha Motor, la sede italiana, abbiamo la sede europea Yamaha Factory Racing quindi MotoGP, Superbike, c'è tutta la parte di design delle moto commerciali dove si fanno il mock-up e gli studi di design che poi vengono rilaborati. Quindi c'è Yamaha Marine qui tutta la parte relativa al settore nautico ed è l'unico posto in Europa che infatti chiama Yamaha Campus perché la chiude Yamaha. Ok, ora io sono qui per un motivo ben preciso in realtà perché ho avuto questa malsana idea, colpa sua, e non solo, di ricominciare a fare test degli amplificatori, degli integrati multicanale. che sono una rogna non da poco perché sono bravi tutti a scrivere quattro righe, le caratteristiche, eccetera, no? Quando me l'hai detto... Ecco, e invece a noi piace fare delle prove esaustive quindi c'è insomma la parte di certamente le caratteristiche, poi magari qualche misuretta sulla potenza, sul rapporto segnale disturbo, sulla qualità generale. Però anche un hands-on bello acculto, quindi la calibrazione funziona o non funziona e magari inserlilo in due o tre impianti, cosa che ovviamente abbiamo fatto. E quindi c'è stato diciamo uno scambio piuttosto costante in questi ultimi mesi perché insomma mi andava di fare, di metter su un test che applicare poi ovviamente anche ad altre macchine, non solo Yamaha. Sì, tra l'altro devo dire che è veramente infrequente un test sul multicanale, è spinoso un argomento, non solo spinoso diciamo in termini italiani. Ed è anche per noi probabilmente negli ultimi anni la prima volta che mettiamo, sottoponiamo a un test multicanale. Sì, non ne facciamo tanto tempo. Mi fa davvero piacere. Sì. E avete innanzitutto due linee diverse. Sì. A Vantage, con quattro modelli. Sì. A2A, A4A, A6A e A8A. Esatto. E noi abbiamo lavorato la 4A. Il 4A, di fatto. E poi avete la serie non a Vantage. La serie non a Vantage che è la serie, chiamiamo l'Entry Level, perché sempre pensando al passato, noi avevamo in gamma qualcosa come 11 sintomaticitatori. Che era senza proprio partire negli albori e che un po' era qualcosa che confondeva l'utente finale, perché sì, tu descrivi le feature, le caratteristiche, le differenze, però poi può essere difficoltoso, come primo approccio, capire intanto dove mi trovo, a che punto della line-up mi trovo, perché. E quindi, in prima battuta, abbiamo fatto una distinzione. Abbiamo ridotto la gamma e mettendo all'interno di ciascun modello delle differenze, degli step più facilmente individuabili. Quindi, se non è così, diciamo che con questa nuova generazione le differenze tra non a Vantage e a Vantage sono molto più evidenti. Esatto, volevo arrivare a questo, esatto. La serie XV è una serie entry-level, per chi si avvicina anche per la prima volta all'hom-tier, per chi non è molto pratico, chi non ha mai avuto diffusorio, che però, comunque, partendo dall'ammiraglia 8A, in realtà... Ebbè, lo so che non puoi dire che fanno cagare, ma non fanno cagare. Cioè, sono dei prodotti interessanti, con comunque un ottimo rapporto. Assolutamente sì, sono prodotti che sono bene. Il prezzo di ingresso? 599 euro. Ok, 599, è un modello comunque 5.1. Sì, supporta il 4K, già è pronto per l'8K, quindi ha delle tratti salienti, base, che permettono anche a un utente entry-level di avere tutto il supporto ai contenuti audio e video necessario. Quindi, diciamo, un sistema minimale, ma non troppo, perché comunque un po' di potenza c'è, però con caratteristiche che lo accompagneranno sicuramente per alcuni anni. Esatto, esatto. E poi c'è il modello di punta RX-V. È l'RX-V6A. Ok. Prezzo di destino è consigliato. Che è quello lì, se non sbaglio. Che è quello lì, esatto. 799 euro. 799. Che, a differenza del V4A, è un 7.2 canali, il V4 è un 5.2. Dolby Atmos, con anche il Dolby Atmos 8 Virtualizer, quindi possiamo anche, in una configurazione, sì, virtualizzare i due diffusori Atmos, dove introduciamo, per esempio, la possibilità di utilizzare una seconda zona, che la chiamiamo zona, esatto, mentre nel V4A è la seconda zona, non è una seconda zona vera e propria, è chiamata zona B, perché può riflettere semplicemente quello che accade nella zona principale. Qui, invece, possiamo iniziare a differenziare i contenuti. Quindi funziona con una vera e propria matrice. Esatto. Ok. Invece, Aventage. Aventage. Quattro modelli, esatto. Quattro modelli, a partire dall'RX-A2A, Aventage è sinonimo di avanguardia, quindi da quello deriva la parola Aventage, e andiamo su una line-up declinata in quattro modelli, che permettono, attraverso quattro fasci di prezzo, di avere un prodotto con una, intanto, qualità costruttiva, dove fai un salto di livello. La prima cosa su cui ho lavorato su Aventage, quindi ridisegnando tutta, diciamo, la piattaforma, eccetera, eccetera, è stata sicuramente la rigidità rispetto alla serie di XV, quindi un concetto più da appassionato, un concetto più di quantità delle performance, più feature. Allora, la qualità dei materiali, la qualità delle plastiche, il peso, il quinto chiedino, i particolari. I particolari, anche, esatto. Anche dall'esterno la differenza si vede, e fin qui non c'è dubbio, ma anche dietro, la qualità dei connettori, non solo i PNRC-A, ma anche i morsetti per i diffusori, la quantità di ingressi e di uscite, ovviamente. Esatto, cambiano le schede, il tipo di scheda HDMI, cambiano. DSP, il DAC, che poi, anche banalmente, la presa del cavo di alimentazione dal primo modello di Aventage, è un cavo rimovibile, mentre sugli RX-V il cavo non è rimovibile, e si parte da 1149 euro al pubblico. Poi facciamo un saltino all'RX-A2A, all'RX-A4A, saliamo a 1749 euro. L'RX-A4A, intanto abbiamo una... a livello cambiano le uscite pre-out, perché abbiamo 5 uscite pre-out, anziché 2 uscite pre-out per la 2A, sempre un 7.2 canali. Cambio la DAC, qui abbiamo una DAC della Sabre, la 90-07, quindi cominciamo anche al lato a livello di conversione di qualità del segnale veicolato. c'è un certo lavoro, e qui anche la possibilità di fare due zone. Abbiamo tanti morsetti, abbiamo 9 uscite, però in realtà i canali amplificabili sono 7, però è possibile fare routing, quindi è possibile giocare tra le uscite amplificate e le uscite pre, anche se purtroppo, questo lo devo segnalare, avete solo 5 uscite, cioè un 5.2, mancano le uscite pre-out dei canali effetti, quindi o quelli di altezza ulteriori e posteriori, o quelli Atmos, eccetera. Però, diciamo, c'è già un buon grado di libertà per avere comunque un sistema espandibile di fatto con nuovi canali. Sì, praticamente sì. Ovviamente, quello che non abbiamo detto fino adesso, tutti gli amplificatori audio-video hanno music cast, quindi lato connettività, abbiamo il Wi-Fi, l'AirPlay 2, il Bluetooth, la radio internet, è la possibilità di fatto uno streamer, è uno streamer anche, esatto. Tutti gli amplificatori avantage hanno l'ingresso phone, quindi possiamo anche collegare un giro a dischi. E quindi, diciamo, sono produttivi. Passiamo al 6A. Ok, andiamo alla 6A. Sulla 6A, la prima cosa che risalta all'occhio, se uno guarda il pannello posteriore, sono l'ingresso e le uscite bilanciate. Abbiamo due ingressi e due uscite bilanciate. È un 9.2 canali, espandibile fino a 11 canali, quindi, come lo discorso per l'A4A, possiamo di fatto un 11 canali. Cambia il tipo di DAC. Qui vediamo una DAC della Sabre, S9026 Pro. Ok, ok. È un ulteriore gradino. Un ulteriore gradino, esatto. E andiamo a 2.949 euro il listino al pubblico. È un salto importante. È un salto importante, esatto. E poi andiamo al top di gamma, la 8A, dove qui vediamo addirittura una doppia DAC Sabre, 90, S9026 Pro. La grossa differenza con la 6A è che con l'8A possiamo arrivare fino a 13 canali di amplificazione. 13.2. Quindi, diciamo, considerando la sala, il soggiorno, home cinema, media, il soggiorno, ben oltre quello che potrebbe essere. Sicuramente ben oltre gli integrati della passata generazione. Assolutamente sì, che ci fermavamo a 11 con la Rexha 3080. Vabbè, ma rispetto alla vecchia generazione, diciamo che è un salto importante. Per esempio, i nuovi hanno una capacità di processamento 7 volte superiore, sono più pesanti. Per esempio, cambia la circuit board, quindi tutto che ha 4 livelli, quindi differenziamo potenza, la terra, quindi abbiamo una scheda, diciamo. Allora, guarda, qui abbiamo l'8A, che praticamente si somigliano anche abbastanza come progetto, perché ho visto anche la 4A ha più o meno la stessa geometria costruttiva. Allora, la prima cosa interessante è, beh, generosa sezione di alimentazione. Intanto lo vediamo a mo' di pianoforte. Sì, ma adesso lo guardiamo dentro. Allora, quindi partiamo intanto, quello che voglio farvi vedere. Intanto la prima cosa che risalta all'occhio, volando la ventace, è la cover superiore. Che è di plasticaccia. Questa cover massiccia, che uno non la guardi, c'è una plasticaccia, ma come un prodotto... No, vabbè, plasticaccia no, perché comunque è una cover di plastica. Un prodotto di 4.000 euro, Yamaha fa una cover di plastica, ma sono pazzi. In realtà... C'è il barbatrucco. C'è il barbatrucco, perché togliendo la cover di plastica, andiamo a vedere quello che è il vero pannello superiore, che è questo coperchio, diciamo, questo pannello in metallo, che è un pannello di spessore doppio di quello dei classici, chiamiamoli così pannelli. È un pannello che non risuona. Quindi questo, per esempio, è un altro dettaglio. Sì, ma visto che è pieno di particolari, di materiali smorzanti, di antivibrazioni. Sì. Abbiamo questa fascia centrale, intanto è forato per permettere una circolazione d'aria corretta. Abbiamo la fascia longitudinale. Sì, ha queste pieghe che rinforzano e imperiscono che si modifichi. Sì, sì, sì. Quindi, già qua vediamo anche questa fascia longitudinale. Il fatto che non risuona ci fa pensare tutta la ricerca dei dettagli verso l'assenza di rumore all'interno dell'ampli. Dopodiché, tolto il pannello vero, metallico, superiore, la prima cosa che... Vai. La prima cosa che risalta all'occhio è questa struttura ad H che Yamaha chiamiamo H-frame. È una struttura ad H che ci dà rigidità, ma io potrei tranquillamente anche, diciamo, farci un esercizio di ginnastica con tutto il mio peso, l'ampli. Si, la rimane che si muove. È costruita in maniera molto solida. Ha uno spessore considerevole. Esatto. Vabbè, DSP e scheda... Sì, vediamo, per esempio, i dissipatori della scheda HDMI. Tre dissipatori di grandezza importante. Una ventola di raffreddamento importante, scusa, è non importante, che lavora in caso di emergenza, perché supportando fino a segnare 8K ha un flusso di dati veloce e importante, quindi potrebbe essere necessario. Qui vediamo poi la struttura, la struttura simmetrica, la separazione del canale sinistro e destro, e i dissipatori. Esternamente ai dissipatori troviamo la scheda con gli amplificatori, che sono 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, quindi 5 e 6. Sono 11, però... 11, più... Esatto. Diciamo, le uscite pre si può arrivare fino a 13 anni. Esatto. Ce l'hai già smontata, vero? Questa ce l'ho già smontata, esatto. Eccolo qua. Questo è il dissipatore. Anche questo non suona. Quindi è un dettaglio sonoro. Sì, pieno di... Esatto. E sono amplificatori alloggiati direttamente sulla scheda, sono amplificatori ad elevata velocità di risposta. Quindi non c'è un transiente. Nel momento in cui, per esempio, un colpo di rullante di batteria, il tempo di risposta dell'ampli per riprodurre il suono è veramente ridotto. E poi, l'altra cosa su cui si è lavorato è nel tenere il più possibili i componenti vicini. Quindi il trasformatore massiccio centrale con due ventoline di raffreddamento sotto e è protetto da questa gabbia di metallo che si chiama MU-Metal che è una lega per schermare dalle interferenze magnetiche. Il resto è la circuitazione. Si intravedono anche dentro dei condensatori. I condensatori, esatto. Ovviamente, nello scalare, nell'andare avanti della serie Aventage, cambia anche la capacità dei condensatori. Quindi, salendo alla 2 alla 8 acchia, si immagazzina sempre più. La sezione alimentazione cresce. Esatto. E quindi, poi, l'altra cosa importante il trasformatore massiccio sotto al trasformatore c'è l'altra chicca degli Aventage che è questa. Lasciatela. Lo giriamo. Il famigerato quinto piedino. Il quinto piedino, ma non solo. Anche la doppia struttura dello chassis che è veramente... Non so se rende l'idea. Qua si intravede. C'è il telaio principale grezzo e quello invece verniciato. Io ho provato a smontarlo e è stata veramente un'impresa per il quantitativo di viti e di incastri che... In realtà, come vedrai in articolo, anch'io l'ho provato. Sono stato del 4A, quindi lo so. Sicuramente lo so. Anche per questo motivo sono... Lascio la parola a te che hai fatto anche il test. Quindi ci sta. Nel pannello inferiore vediamo il quinto piedino che rispetto alla serie vecchia è stato praticamente avanzato in avanti perché attraverso delle analisi con dei librometri a scanner laser posizionato qui tutte le vibrazioni di residue che rimanevano un po' in circolo vengono eliminate. Quindi si rende più omogenea il discorso vibrazioni sotto lampri. Doppio pannello e i piedini in metallo. Quindi anche qua abbiamo una... È vero. Esatto. Vediamo se riusciamo a tempo reale a smontarli. No, c'è la vita interna. C'è la vita interna. Le due ventole. Ecco le ventole. Le due ventole che vi dicevo prima. Il trasformatore esatto. Il trasformatore che ha soltello non è alloggiato direttamente sullo chassis ma è alloggiato su una... Secondo diciamo su un plateau metallico ricavato al pieno che viene a sua volta avvitato poi nella struttura dello chassis e qui abbiamo il doppio fondello che fa poi da base portante per tutto quanto. Quindi abbiamo tanta sostanza. Anche se questo è l'otto e questo è il sei però ci abbiamo vicini la serie V e la serie A. Il top di gamma della serie V e il top di gamma della serie A. Ma un'altra cosa lasciami dire prima di passare a questa... Volevo farti vedere sempre dagli smontaggi vari. Con la scheda con la scheda HDMI, il DSP con l'FPGA Esatto. Con l'FPGA che è anche questa programmabile. Quindi se... Questa è una piattaforma che Yamaha pensa di poter portare avanti per molti anni. Per esempio... Quindi questa è la stessa che sta anche su 2? Sì, sì, sì. Su tutti gli avventari abbiamo l'FPGA. Di questo comanda 13 canali potrebbero essere anche 15. Potrebbero essere anche 15. Esatto. Se in futuro volessimo far diventare questo 8A un 15 canale si può ovviamente adottando anche le azioni di amplificazione a supporto possiamo tranquillamente farlo. Ed è qualcosa in più di un aggiornamento firmware. Yamaha ecco, ha una piattaforma flessibile, modulare destinata a durare. Va bene. Adesso invece mi vado ad ascoltare le nuove NS che avete presentato a Monaco perché a Monaco c'era troppa gente c'era troppo casino e adesso me le vado a sentire qui belle tranquille. Ok? Minuto Minuto Ma Minuto Grazie a tutti.